L'hanno fatto tutti e voglio farlo anch'io, mi indovinerà Akinator, con sta faccia E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter, mi avete chiesto in tantissimi di fare Akinator e oggi sono qui Scrivetemi qua sotto le parole da indovinare, 30.000 mi piace, prossimo episodio, quindi spolliciate Io ma adesso, indoviniamoci, il suo personaggio viene dall'Italia? Sì, personaggio attualmente è più di 30 anni, no? È famoso? Sì? È diventato famoso grazie a YouTube? Certo Il suo personaggio vive a Torino? No Il suo personaggio è di Roma? Il suo personaggio gira video su FIFA? Il suo personaggio è stato adottato? Mamma Il suo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? Sì Il suo personaggio ha a che fare con i giochi horror? Sì Il suo personaggio ha un figlio? No Ha indovinato! Ha indovinato Adesso indovinerò la ragazza che amo Il suo personaggio è nata in Italia? Sì Il suo personaggio è di Roma? Sì Il suo personaggio ha a che fare con Favij? No! Il suo personaggio è femmina? Ma sì! Il suo personaggio è una sorella più piccola? No Il suo personaggio è un cavallo? Caro Akinator Espleta le tue funzioni in bagno e poi mi fai un'altra domanda Attenzione La ragazza che amo è lei Violetta È uscita Violetta Eeeh Veda male È Violetta? Sì Che pezzo è quella? Riproviamo Il suo personaggio sta insieme a Violetta Sta insieme a te stessa? Eh c'è Attenzione Akinator ha detto il suo personaggio è grasso? Oh Si Come si? Ahahahah No Eccola L'ha indovinata Sicuri? Stavolta si Con i cani E ora indoviniamo anche Bombo a proposito di cani Il suo personaggio è un cantante? Quando suona la porta si? Il suo personaggio ha i capelli lisci? No Il suo personaggio è un cellulare? Sì Il suo personaggio è un cane Oh Ha che fare con Dexter? Sì Attenzione Eh? So a chi sta pensando Ma non mi sembra si adatta ai bambini Ma poverino Ahahahah Bombo non è adatta ai bambini Ma no è così cucoloso Io voglio denunciare Akinator eh Stiamo se indovina Brazzo Crew Il suo personaggio ha a che fare con Favij? Chiediamoglielo Brazzo hai a che fare con Favij? Eh no No Nulla a che fare con Favij Forse un po' di tempo fa L'ho regalato qualche scritto Però Niente di che Ok Quindi Probabilmente no Il suo personaggio ha bei capelli Brazzo ha bei capelli E lo sta chiedendo Akinator ha accesso Ah ma stai qua Akinator Salutamelo Il suo personaggio ha a che fare con Gesù? No Non credo Abbia regalato iscritti anche a lui Oh L'ha trovato Brazzo Crew Hai trovato Brazzo Crew È dominato anche Bombo E quindi adesso Potrà indovinare me? Proviamo A rindovinare me Dexter Il suo personaggio è nato in Italia Sì Il suo personaggio è diventato famoso grazie a Youtube Sì Il suo personaggio è di Roma Sì Il suo personaggio ha a che fare con il mondo di videogiochi Sì Fa video su FIFA Sì Il suo personaggio ha il giardino Sui palazzi di fronte Fa parte di Team Fortress 2 Noi eravamo partiti bene Akinator Il suo personaggio è il numero 00 del Pokédex Che cazzo fai Akinator? Stai a giocare col cellulare? Leggi i messaggi della ragazza su Whatsapp? Fai domande più sensate? È di tipo fata Il suo personaggio è a capelli biondi Nooo Akinator basta giocare col cellulare Oh l'ha indovinato Ma vaffanculo va Bene ragazzi Akinator fa schifo 30.000 mi piace Il prossimo episodio Iscrivetevi qua sotto Chi indovinare Noi ci diamo prestissimo a un nuovo video Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto Facebook, Instagram Tutto in descrizione Ti mando un abbracione Un salutone E ci diciamo gente Possiamo anche toccarla da sguardrina Poi possiamo far finta di avere una ragazza